Negli ultimi dieci anni i Tucellos hanno catturato il pubblico con i loro arrangiamenti di canzoni rock. Ora si divideranno ma c'è ancora il tempo di un tour mondiale e di un album da poco uscito, dedicated, con dieci pezzi che vanno dal repertorio dei Guns N' Roses a Lady Gaga. Lo dicono tra risate e sguardi d'intesa, ma forse è davvero così. E sulle carriere soliste di Hauser e Sulich si può aggiungere questo. Tucellos ha dato il ritorno tra classica e rock. In fondo anche certi autori della grande musica vivevano in maniera unica e stravagante. Bruno Ploier, Sky TG24